Concentrati dal minuto 1 Penso che questa è stata la chiave di questa gara Dobbiamo stare concentrati, cattivi dal primo minuto per la difesa Penso che abbiamo fatto una partita con tutta la squadra molto buona Perché loro con Gervinio e con altri giocatori erano troppo veloci Però abbiamo stato concentrati, abbiamo fatto una bella marcazione difensiva E questa è stata forse la chiave della partita difensivamente Mi sono sentito comodo, confortabile con la partita in mezzo campo Però sempre si può migliorare